Ci siamo andati a fare la battaglia di Inghilterra. C'eravamo gli occhi per piangere. La radio a terra andava appena staccava le ruote e non andava più. Era un aeroplano di tela, c'era 42, era di tela. Non c'eravamo corazze, c'eravamo solo due mitragliettrici e dovevamo fare l'ascolto ai bombardieri tedeschi. I tedeschi quando se ne sono accolti si sono impressionati a vedere con cosa volate.